Salve a tutti ragazzi, bentornati su... Qui tu su Server 2, con la telecamera, io a destra, lui a sinistra, in realtà su due diverse schematiche di gioco, quindi... Sì, quanto l'hai fatta complicata. Allora, siamo su Radar Base e facciamo un bel caccia a tango. Ma davo da Radar Base? Vuoi un'altra mappa? Vuoi... Ma l'ha fatto un po' i coglioni. Allora, facciamo così, Kill House Bridge, questa regala sempre grandi emozioni. Vai, corrispondere e iniziare. Ho provato un'emozione strana. Ho provato a giocare a Takedown Red Saber con l'altro account Steam. Io, siccome ce l'ho su questo account e non sull'altro, che cosa è successo? Che sono dovuto entrare nella cartella del gioco e ho potuto giocare. Ah, sì? Sì, ma in inglese. Quindi non c'era tutta questa poesia della... Tenete la buona sta cosa, se il computer è di vostro fratello ma l'account non è il vostro... Praticamente gli stai dicendo che possono copiarsi il gioco in tutta tranquillità. Esatto. Ah, bene. Tutti con Takedown Red Saber. Dove sei, esattamente. Sono dietro di te, non ti spaventare se non è dietro di te. Oh, ca... Come si cambiava il coso con F? Sì. Vado a destra e vedo se... Mi sono cagato sotto che... Aspetta, aspetta. Porca troia, avvisami che scendi. Che scendo? Sto qua. Dove devo andare? Ma sempre là sei stato. Eh. Perché mi hai sparato? Non ti ho sparato, ti ha sparato lui. Ti ho salvato al massimo. Andiamo. Ho fatto metà del tuo lavoro da... Vieni? Chiudi la porta che fa freddo. Ah! Porca puttana, non ti affaccià, non ti affaccià, non ti affaccià. Non ti affaccià. Chiudi le porte, chiudi le porte. Chiudi tutto. Sta pieno di gente. Siamo negli angoli, siamo negli angoli. Tu non hai capito... Allora, prendi la bomba. Prendi la bomba. Prendi la bomba. Con due ore. Ah! Guarda che... Che... Io... Meno male che io ho detto... Tu stanno 3.000 persone, stanno tutte attuando, mi faccio vedere il mio screen, stanno almeno 10 persone là fuori. Ho capito, però hanno ucciso prima te e poi me. E grazie, perché non mi proteggi le spalle, sto a guardare la porta davanti. Io stavo... C'erano tre porte, io non stavo guardando la porta da cui è entrato lui. Se avessi guardato la porta da cui entrava lui, l'avrei ucciso. Ce ne erano tre, noi siamo due. Perché capito, lui stava come un cane da punta, si ferma lì e controlla. Eh certo. Puoi dire la stessa cosa a te, perché non... Io stavo cercando di capire la situazione. Allora, calmi. Kill House Bridge. Ahia. Sta arrivando uno. Ok, sono andati giù tre. Oh, oh, stanno arrivando un sacco di persone. Porca merda, stanno tutti guardati qua. Sei morto. Ce ne stava... Ce ne stava uno su per due a destra e uno stava correndo da destra e sinistra, non so che fare. Ah, però... Mica avevo visto dove stava pure la fregna delle loro mamme, magari, perché poteva essere... Che ne so, sotto le scale. O in cima al cazzo che la frega. Appena iniziamo, usciamo tutti e due da un lato. Tutti e due dal lato destro, che è il lato tuo, e spariamo tutto quello che si muove. Lato destro, usciamo e uccidiamo. E ovviamente non c'è nessuno, perché... Quando uno fa un po' di tattica... Allora, andiamo sotto, andiamo sotto. Sopra, sopra ci stanno... Proviamo a fare quello che non facciamo mai. Cioè, andiamo diretti in una direzione, guardiamoci indietro solo per proteggersi dalle spalle, senza correre. Bravo! Ma da dove cazzo è uscito? Tu stai così... Lui ti ha infilato due o tre volte il fucile nella schiena e poi ha fatto fuoco. Bellissimo! Ma dove è uscito? Non lo so, ma è stato emozionante, ragazzi, a sto giro andiamo... Ma per te sarà stato emozionante, sicuramente non per me. Madonna che capolavoro, ragazzi. Io ogni volta che vedo sta foto di caricamento mi ricordo agli sviluppatori che ci hanno messo tanta passione. Ok, a destra due sono morti, quindi tecnicamente è un po' più sicuro. Bravo! Vai, vai, continuiamo. Mi sembrava una tattica vincente la nostra. Aspetta che mi ha fatto. Ah! Non lo so se l'ho ucciso, ho fatto uno scopo... Sì, l'ho ammazzato. Preso due. Due pari, ecco un altro, tre. Oh! Sei morto! Sì, ma tu devi capire come sono morto. Occhio, ce n'è uno sopra. Ah! Corrispondere iniziale. Ragazzi, quanto è bello sto gioco. Quanto è difficile. Avanti dei soul. Quanto è più difficile di dare? Di certo non recuperi l'esperienza persa. Questo è poco mai sicuro. Sì, sì, la dotazione si cambia in quel momento. Ma che cazzo? Ma ho appena messo la testa fuori. Ma mi fai usci, porr? Ah! Mi fai usci, porr? Ah! Ma mi passi davanti mentre sto impuntanendo. Ma pure tu? Ma scusami. Sto sparando una persona? Tu gli vai con... Cioè, fuoco nemico! Fuoco nemico! Mi passa davanti mentre sto sparando. Ma manco le paperelle. So così furie. Che cazzo ridi? Qua sta la chiagne. Stavo a sparare. Stavo concentrato. Mi passa davanti. Io non sapevo nemmeno che fossi là. Proprio niente. Io pensavo fossi dall'altro lato. Ragazzi, è andata un po' così. Adesso... Adesso rifacciamo. Kill house bridge. Vai! Vai, veloci come il vento, aggressivi come le torpediniere. Forza. Ma ti rendi conto che non abbiamo fatto più di 10 metri in tutto sto gameplay? Procediamo? Sì, sì. Sì, no, ma appare davanti, dietro. Sì. Sì, è... Ho fatto fuori uno. Sì, in alto, però stava... Occhio, occhio. Donna. Donna che... Trinta, che crack! No, 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 dietro no, dietro no, dietro no, aaaaaaah! Sì, però, stanno troppo agendo qua. È bellissima. È impossibile. Questa è la mappa definita. Allora, secondo me dobbiamo iniziare... Questa qua, questa qua non la finiremo mai. Dobbiamo iniziare con le granate. Perché cazzo? Vabbè, inizia... Partiamo da due parti... No, io sono iniziato giù. Completamente differenti. Non è vero perché io sono iniziato giù, esattamente come te. Sì, ma sei dall'altra parte della mappa, però. Balla sto fucile, mi piace. No, è vero, cazzo. Sarola. Quindi vediamo di non diventare i nemici. Aaaaaah! 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 Mi sono cagato solo. Oh, ma lo sai che da sto lato è più tranquillo? Eh, grazie, stanno tutti da me! Bello, ne uccisi due! Eh, io ne uccisi due pure. Eh, va! È pure uscito, ma. Non lo so se quello è vivo o è morto. Aiutami, aiutami, dammi supporto. Eh, se non avessi le travide... Occhio sinistro! Ah! Non lo fa tanto andare. Ma intanto anche... Cioè, questo gioco è anti-cheat proprio. Allora, no. È cascata pure la videocamera. Allora, dobbiamo andare tutti e due insieme dall'altra parte. Tutti e due insieme dall'altra parte. Così riprendiamo di... No, perché c'è meno gente. Sono sicuro che di là c'è meno gente. Caccia a tango. Muoviamoci poco. Eh, ma... Dove cazzo stai? Sei sparato... Sono dietro di te. Aspetta, vado a vedere qua se si affaccia qualcuno. Prudente. Prudente! La prudenza! Ah, cavo occhio! Preso. Ho sparato sul bacino e morto. No, sono stato scemo io. Ok. Sei solo. Sono stato scemo io, pensavo di farlo con un golpe, invece ne volevano almeno due. Stai cagando sotto. Sì, tanto. No, nel senso che il tuo personaggio proprio si sta cagando sotto come al solito. Ah! Sì, vabbè, ma... Ma non... Allora, io gli ho visto un pixel. Tanto, guarda, che... Eh? Non riusciamo ad andare avanti più della prima zona. Questa è la mappa più tosta. Noi pensavamo che la piccionaia fosse la più tosta, ma questa è l'incubo. Il House Bridge è veramente l'incubo. Signori, vi sfido. Su questa mappa a... In due, però. In due, a completare una caccia a tango. È impossibile. Ve lo vedete, noi non riusciamo... Comunque, dobbiamo sfruttare di più le porte, entrare nelle porte. Allora, entriamo nelle porte. Porta, le frecce. Lascia stare quella cosa. Allora, ho visto un uomo. Lascialo stare. Dici? Entra nella porta e chiudi dietro. Mo. Proviamo a vedere se qua c'è qualcuno. Non c'è nessuno. Proviamo a aprire qua, dai. Io apro... Tu chiudi le porte dietro di te, mannaggia al cazzo. Io apro, tu spari. Sei pronto? Sì, pronto. Non c'è nessuno, sembra. Dietro! Bravo. Sto tenendo sottotiro a sinistra. Allora, riproviamo a stare la stessa cosa dall'altro lato. Piano. Vai, apro io e tu spari. Come al solito, non chiudi le cazzo di porte. Vai! C'è nessuno qua. Ce n'è uno sopra, però. Sicuro? Sì, sì, sopra sopra. Eh, sta scappando. Sta passando da qua. Guarda che bello. Le assi di legno ti fanno vedere il piano di sopra. Ce n'è uno. È ucciso! L'ho ucciso? Ho sentito... Oh! Ce n'è uno. Oddio, mi sono peccato sotto. Perché apri e non mi avverti? Sono molto curioso di vedere se l'hai ucciso davvero. Io ho sentito... Oh! Io non ho... Aspetta, cioè... Ho visto altri passi sopra, eh. Ho visto compenetrazioni, ragazzi. La tensione è a mille. Cioè, siamo concentrati. Tu tremi. Tu non hai idea. Aspetta, lancio una granata. Via. Ma ho sparato... Occhio, occhio, dietro di te! Ah! Ok, ok, bella, bella! Dai, che gli stiamo... Prendi il culo! Madonna. Sei morto? No, no, è andato. È morto un altro. Caproia. Dove l'hai buttata la bomba? Tu con stai... Sei morto con la bomba tua, scommetto. Occhio quando sali dalla scala, c'è uno subito dietro la porta. Porca puttana! Occhio! Va bene, però è andata bene. Sto giro ci sono stati bravi. Ma che cazzo sei a dire? Abbiamo ucciso un sacco di gente. Va bene, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo gameplay su Tegnao Red Saber. Fate il tifo per noi. Grazie. Noi. Grazie.